Abbiamo una nuova concorrente? Che piacere, quanto sono felice di conoscere la ex di Edoardo, Antonella. Ciao, Brondina, tutto bene? Ciao, Mora. Non sapevo che avessi fatto l'opinionista, tu che giudichi, chi fai. Ah sì, ho fatto l'opinionista. Edoardo è preso, ha facciato la pesce lesso, Antonella no. Complimenti. A parte, perché volevi che dicesse che ha facciato la pesce lesso? No, però sembra che a me non mi interessa, Edoardo, come hai parlato. Esattamente quello che ho detto. Poi non lo so, adesso magari, effettivamente, da quando è arrivato, Sì, esatto, io mi riservo di, insomma, di vedere un attimo. Appena l'hai visto sei matta, matta lo dici a me, poi lo dici pure alla tua ex, bellissimo. Ah, beh, queste parole d'amore le usi con me e con lei. A parte che... Ma volevo capire, come è nata la vostra storia? Mi racconti, e chi hai lasciato che grazie? Ma hai sentito, racconti. Ci siamo visti, ci siamo frequentati per poco tempo. Eh, quanto tempo posso sapere come è andata a finire la cosa o è un segreto? Ah, ma sono qua, è finita, ovvio. Non c'è, senza. No, però, sai, al grande fratello ti devi raccontare, lo sai. Oh, tre giorni, tre giorni in Sicilia da lei e una settimana a Roma da me e poi direi che... E poi, insomma, così random ogni tanto, poi comunque c'è la zona rossa, le cose, cazzo. E poi non siete più sensibili da allora? No, siamo amici, guarda che noi ci vediamo. Ah, siamo amici? Amici e basta o amici di letto? Assolutamente amici e basta. Assolutamente amici e basta. Ciao.